Siamo di fronte a una nuova ondata di contagi con la variante Delta che ha superato il 90% della casistica segnalata attualmente. È il direttore sanitario dell'USL di Piacenza, Guido Pedrazzini, ad annunciarlo nel Consiglio del Report settimanale sull'andamento della pandemia. I nuovi positivi nell'ultima settimana sono stati 249, con un incremento del 79% rispetto alla settimana precedente. E l'incidenza è di 88 nuovi casi per 100.000 abitanti, che secondo il vecchio schema di classificazione delle zone avrebbe portato Piacenza in zona gialla. Come è capitato nelle scorse fasi, siamo anticipatori di quella che sarà la tendenza, prosegue Pedrazzini, e abbiamo medie superiori a quelle regionali, ma presto sarà così ovunque. L'età dei nuovi contagi è giovane? Intorno ai 30 anni. Intanto, con picchi di 2.500 somministrazioni giornaliere, prosegue la campagna vaccinale nel Piacentino e si sta concludendo la fase di luglio, prevalentemente caratterizzata dalle seconde dosi. Ora arriva la fase di agosto, in cui cresceranno la programmazione delle prime dosi. Abbiamo in pratica vaccinato più del 60-64% della popolazione, c'è ancora una fette di persone che sono prenotate e sono in attesa della prima dose. L'azienda sanitaria sta programmando nuovi ambulatori vaccinali di prossimità itineranti in occasione di mercati o feste di paese, da qui alla fine di agosto saranno circa 15 gli appuntamenti.